l'audio Flavio eh, senti io mo' vi carico hai giocato la viva tua? ma c'è facile, mi mettiti d'accordo prima cine, poi non io mi so che c'è la nana pronto? hai giocato pronto? oh eh, pronto mi senti? sì allora io vi immagino aspetta eh, si va, esce sii pronto, mi senti? no, no, si, ma si allora, hai chiamato l'amico tua prima, lo Bruno eh eh, scusa, si rinuncia a mare, biglietti lo, e con noi non gli uiti, poi ti giocati passare di paro, ma c'è un fa questo è allora sono tu l'ata questa di l'ora pronto? quella di l'ora no, no, sì, l'ora come c'è di l'ora? come c'è di l'ora? hai giocato, vi capisco allora, tu l'hai uscito, Bruno? sì allora è giocato, mi c'ha detto ah, lo Bruno, l'hai già avvisato e mi ha detto la signora, è vero con la dichiesta gli parlo, eh ma io c'è l'adriano, no l'adriano? e l'adriano? e l'adriano ce mi metto che faccio questi scherzi c'è l'adriano, poi? tu giuseppe, lì, ti mannetti c'è l'adriano tu giuseppe, io tu giuseppe se faccio tanti nomi sono l'ata a come Ancona di come Barletta e a come Alessandria capito? non mi viene la voce di maschile, però no, non c'è il maschile ma io dico ma secondo te ada, ada nada mi sa facce dire come un sattare che quindi che si senti? e c'è chi è il faiaccio di carnevale? sa, una cosa che non c'è da quanto? o una cosa che c'è da... no, io non conosco né lo Giuseppe Redda come dice l'uno e né lo Alessandro Magno non li conosco niente nell'altro e lo vedi, arrivo al dunque, arrivo al dunque allora, allora per essere più circuncisa volevo dire questo allora, come siete passati a mare? eh, guarda no, come fai se ti guardo dentro l'elevolo? ma io dico no, no, non vuoi spiccare quindi, guardi tu no, no, ci sono tu ci sono tu, ecco perchè stai a dire, quando inizio c'è a fare non lo posso fare con certi amico tutte le risparci e quello che io voglio farci perchè è un piatto nuovo e sono pure buone cucine allora, qui vedo che di quello no? per arrivare alla nocciolina del discorso è che una cosa acqua e lo è 13 13 come gli apostoli 13 ora le abbiamo fatte sono pronte e vabbè io non lo vediamo non lo vediamo non lo vediamo allora lei adesso mi vuole prendere per i fondelli giustamente nooo nooo io prendo per i fondelli guarda se io prendo qualche amico per i fondelli lo prendo in un gollo in un gollo anche a parole tue pesca una vocale se non c'è via se non c'è via no quale a parole tue dimmi 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 mi sposo dimmi dimmi praticamente maoh se tu huoi io passo vanno statiサittici tu no sono tu io perchè mi rozzano niente anzi mi mancano 4 ispettate piùogo allora c'è un bel lunedì luce scientifico c'è di tu ah ti senti male ho capito allora praticamente io le uova ti dicevo ce l'ho se vuoi ci incontriamo in piazza piazza al centro e ce le porto siamo stati insieme ad altri amici e qualcuno gli è andato in testa a te non so oggi se gli è andato in testa a te ma c'è sardissimo ehi ieri ti parlo ma qual'hanno mai dopo i 10 generasi scusami ma nooo il marzo vicino mi ha sempre sentito l'orda quindi io faccio un po' di piazza sono vicino al solito posto altro il tuo posto al solito posto quale a mare dai all'alciro alla valutazione eh gilji c'è il cimento c'è il cibo io sinceramente la piano no io devo mangiando una mela per digerire un po' quei pazzi si faccia, e io sento mangiando mangiando la mela che proviamo a mettere la stagione fette eh senti, la mela dice che la mela, pronto, dice che la mela al giorno toglie l'oculista di giorno eh, senti, ma sulla mela ti mangio pure la banana eh, non c'è una mela, non c'è una mela, non c'è una mela, non c'è una mela no, non c'è una mela, non c'è una mela, non c'è una mela belli abbracciati con sta banana tipo coppa di scuante eh, si è sposte, scusa ah, hai visto San Giuseppe? eh, ho capito, senti, senti mi senti? ecco, senti, mo mi senti meglio? eh, ti stavo dicendo, no? tu mi hai detto che hai visto San Giuseppe, cosa ti ha detto San Giuseppe? eh, questa è lontano Eh, però te l'abbiamo a dire pure un fatto di dolce, scusa, eh, che a voi mi fai giustare veramente, guarda. Allora stavo. Acqua, è a mare, un loro, un'igliadina, da a voi stare? Allora, al pollaio sto venendo. Stai venendo al pollaio? Sì. Quindi in questo momento per chiudere tu gli senti un pollo? No, 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 ce le voglio e voglio, perché io sto venendo a prendere le uova, quindi se ti voglio e ce le voglio. Va bene. Allora, arrivo subito, arrivo subito. Senti, io ti saluto, io ti saluto, ti regalo una gallina e ti aspetto vicino alla cantina. Mi sento malissimo, mi sento male, male, male. E' un picchio di una cosa, non c'è, un picchio di centimezzo. Guarda, ci spiego, ci spiego, allora? Va bene. Eh, va bene. Sì, quello a mano sta. Guarda, ciao. Guarda, che discorso. Ciao. Va bene, quanto quello che ci posso io? Eh, non c'è, 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 non c'è. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè.